L'agricoltura della provincia di Sondrio manda in archivio un anno difficile. Colpendo pesantemente il comparto turistico e della ristorazione, con locali chiusi e presenze azzerate nel periodo di lockdown, l'emergenza Covid ha prodotto i suoi effetti sull'intero comparto agroalimentare. Così il settore primario di Valtellina e Valchiavenna ricorderà il 2020 come un anno di estrema difficoltà, evidenzia Silvia Marchesini, presidente di Coldiretti Sondrio, che fa il bilancio dell'annata trascorsa. Le difficoltà legate a lockdown e limitazioni, dichiara, sono state pesanti e lo sono tuttora. Sin dai giorni delle prime chiusure totali di primavera ci sono state forti limitazioni per la logistica e i trasporti. La manodopera stagionale è riuscita a raggiungere la nostra provincia in tempo per la vendemmia e per la raccolta delle mele, ma è stata una corsa contro il tempo. L'agricoltura ha dovuto riconvertirsi in tempo zero, a esempio con la consegna a domicilio dei prodotti agricoli. Lo abbiamo fatto a marzo, lo facciamo in queste settimane con un elenco in continuo aggiornamento che tutti possono consultare sul sito di Coldiretti Sondrio o sulla nostra pagina Facebook. Tra i prodotti di qualità che più hanno patito danni dalla chiusura dei ristoranti c'è il vino, ma in generale tutti gli ambiti sono stati colpiti dalla crisi. Il settore caseario, quello di miele e salumi, ma anche il comparto frutticolo, ad esempio le mele che erano distribuite ogni mattina a migliaia di studenti nelle mense delle scuole lombarde. Un altro risvolto della crisi, rimarca Coldiretti, è lo sviluppo dell'e-commerce che porta il made in Valtellina direttamente a casa, ma va da sé che si tratta di un segmento non sufficiente a ripagare delle perdite subite.